Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Nino Frassica, noto attore comico italiano, da lunedì 23 settembre 2024 sarà alla conduzione di Striscia la Notizia insieme a Michelle Unziker. Con una carriera iniziata negli anni 70, Frassica è diventato un'icona dello spettacolo italiano grazie alla sua comicità. Dopo il matrimonio con l'attrice Daniela Conti, durato dal 1985 al 1993, si è legato alla sua attuale compagna Barbara Exignotis, sposata nel 2018. Barbara Exignotis, classe 1975 e originaria di Cernusco sul Naviglio, Milano, con radici greche ed ungheresi, ha avuto una carriera da attrice hard prima di tentare la strada della politica con Alleanza Nazionale. In seguito ha lavorato nel teatro e in televisione, dove ha conosciuto e si è legata a Nino Frassica. Nel 2018 la coppia ha celebrato le nozze con un particolare dress code Total Black, che ha fatto parlare. Recentemente Frassica e la moglie sono stati coinvolti in una controversia legata alla sparizione del loro gatto Iro. Barbara ha accusato i vicini di casa di averlo fatto sparire, mentre questi l'hanno denunciata per stalking, sottolineando di aver ricevuto insulti e minacce. La situazione ha generato un caso legale e mediatico, con un video che mostra Barbara in un alterco con i vicini. Questa vicenda ha avuto un impatto emotivo importante su Barbara, che ha ammesso di assumere farmaci per gestire lo stress. La situazione ha creato tensioni e polemiche, mentre il destino del gatto Iro rimane ancora un mistero. Resta da vedere come questa situazione influenzerà la vita della coppia e la carriera di Frassica.